Ospite nell'ultima puntata di Domenica in, Luciana Littizzetto ha mostrato il suo lato più intimo e privato, quello da mamma. Intervistata da Mara Venier, la comica torinese ha raccontato la sua esperienza con i figli in affido Vanessa, di 26 anni, e Jordan, di 23. Ormai, dopo anni insieme, il loro rapporto si è consolidato, ma all'inizio non è stato affatto semplice, soprattutto nella fase già delicata dell'adolescenza dei due ragazzi. In particolare, è stata proprio la conduttrice a chiederle di raccontare uno degli episodi più critici successo alla sua famiglia, la partenza improvvisa di Jordan. Mio figlio è sparito per cinque giorni ed ha girato più città in Europa, ha esordito Luciana Littizzetto. Tutto è successo quando il ragazzo aveva già compiuto 18 anni, dunque era già maggiorenne. Se n'era andato perché sono una rompipalle. Lui è uno spirito libero che vuole farsi i fatti suoi e non rendere conto. Era maggiorenne e poteva volerlo. Ha aggiunto spiegando che poi fortunatamente è tornato a casa e la vicenda si è conclusa con un grande abbraccio e un sospiro di sollievo. Di tutto questo Lucianina parla anche nel suo nuovo libro, in cui ha deciso di raccontare la decisione di prendere i ragazzi in affido insieme all'ex compagno, il musicista Davide Graziano. L'affido prevede un legame con la madre biologica che poi si interrompe. Ora non hanno più contatti. Ma io sono grata a lei. Intanto perché li ha messi al mondo e poi perché la vita dà bastonate e non mi sento di giudicarla. Penso che lei ha fatto ciò che ha potuto. Non ho nessun tipo di condanna nei suoi confronti.